Una ventina al giorno, tante sono le persone multate per inosservanza delle norme anticontagio nelle ultime due settimane, ovvero a partire da venerdì 6 novembre, quando è entrato in vigore il decreto che ha posto la Lombardia in zona rossa e introdotto le restrizioni tuttora in vigore. Da allora, secondo i dati della prefettura di Pavia, in provincia sono state controllate circa 8.000 persone, 7.938 per la precisione, e sono scattati 243 verbali per inosservanza delle norme, come il mancato utilizzo della mascherina. In questo lasso di tempo sono stati invece 6 i pavesi denunciati perché, nonostante fossero in quarantena, perché positivi al coronavirus, sono stati fermati fuori dalla propria abitazione. Quanto agli esercizi pubblici, in due settimane ne sono stati controllati 576, 11 quelli sanzionati di cui 8 sono stati chiusi in via provvisoria per inosservanza del decreto.